Sono Alex Buroni della Stark, dal dipartimento di marketing, siamo qui a Francoforte a esplorre i nostri prodotti e di novità a parte i nostri interattivi a pavimento e i nostri proiettori architetturali abbiamo una libreria a parete molto compatta, solo a 30 cm di profondità e ci permette di navigare tra i contenuti in maniera del tutto touchless, quindi senza toccare alcunché possiamo sfogliare i contenuti. Per le altre novità, i nostri prodotti, i nostri eventi e seguirci potete andare sul sito www.stark1200.com